Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignone. Traffico regolare sull'intera rete stradale e autostradale della regione toscana. Interventi di manutenzione programmata in A1. Nella notte tra il 14 e il 15 settembre, in orario 22.6, verrà chiuso l'allacciamento con la A11 provenendo da Bologna. In A11 la chiusura riguarderà chi proviene da Pisa ed è diretto a Bologna. Sul raccordo Siena Firenze possibili disagi per una riduzione di carreggiati in entrambe le direzioni per lavori, Trattavarnelle e San Donato. Oggi a Empoli sarà possibile accedere e parcheggiare nell'area sterrata di Serravalle per agevolare la sosta dei tifosi per la partita in programma allo stadio alle 20.45. A Firenze, sul viale Milton, disagi per una riduzione di carreggiata da via Leone X a Largo Martiri delle Foibe. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Altre info sui nostri canali social. Buon viaggio!